Tre giorni all'insegna dello sport, dell'arte, dell'enogastronomia e del divertimento. Dal 2 al 4 giugno, la via verde della costa dei Trabocchi, ABR Village, a Fossa Cesia Marina, si animerà con la manifestazione Art Bike & Run, più Wine. Sì, la costa dei Trabocchi, dopo tanti anni di attesa, finalmente ha visto finita, inaugurata, la via verde. Così chiamata pista ciclabile. È stata inaugurata anche alla grande, perché è stata inaugurata nell'occasione della partenza del Giro d'Italia, che ha dato la visibilità in tutto il mondo del nostro territorio. Questa è stata una vittoria della nostra regione, del nostro territorio, dei nostri operatori. Noi come Camere di Commercio continuiamo a dare il nostro supporto a tutte quelle attività che possono contribuire allo sviluppo del territorio. L'obiettivo principale è proprio quello di creare un pezzo di stagione turistica. E come, attraverso una serie di manifestazioni, che vedono la possibilità per i cittadini, per i partecipanti, di godere il territorio. Non solo la pista ciclabile, ma tutto quanto il territorio della Costa dei Trabocchi, le colline del vino, quelle prospicenti. Ma in un'ottica anche ambiziosa, perché nell'ambito della manifestazione presenteremo il progetto dell'anno prossimo, la realizzazione della linea Gustaf ciclopedonale.